...essere presente alla premiazione del Britannia Tour Golf & Morse, dodicesima edizione, seconda prova di qualifica. 18 bucche stelle for, handicap 3 categorie limitate, gara disputata sabato 21 aprile 2018. I premi sono gentilmente offerti alla Franco Bosa e Argenti. Grazie. Bravi. Premia al membro della commissione sportiva Luciano Pagni, che è anche socio del gioco. Grazie. Iniziamo con la premiazione, il primo signore Lucio Veneziali con 38 punti. Molto bene. Veramente. Bravo. Grazie. Meno male che oggi è partita alle 30. Hai visto? No, 29. Agni? No, 29. Te l'ho detto. Ma te l'ho detto prima. Ok. Grazie. Il primo signore Maia Aug con 25 punti. Arriverà, arriverà, guarda bene. Arriverà? Sì, dopo. Terza categoria Handicap di gioco da 23 a 36, secondo netto Eugenio Cenerini con 39 punti. Bravo. Ok, vai. Il primo netto, terza categoria Valerio Cinesoni con 39 punti. Bravo. 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 Ok, vai. Seconda categoria Handicap di gioco da 13 a 22, secondo netto Blue Teston con 33 punti. Vai Bruno. Bravo. Bravo. Vai. Il primo netto di seconda categoria Valerio Pacini con 38 punti. Bravo. Stai veramente stancato. Ok, vai fatto. Prima categoria di gioco final 12, secondo netto Luciano Pagni con 23 punti. Bravo, bravo. Per il premio, perfetto, vai. Primo netto Marcella Paretti con 30 punti. Eh, che ora arriva il marito. Primo lordo Nicola Pregalanti con 22 punti. Facciamo il premio tutto. Vai. Due premi. Tutta famiglia. Due premi. Facciamo una bella foto, dai. Ok. Grazie.